Sul palco del Gay Village da Giovanni Amberza e seguita da una numerosa platea. Il regalo più bello che hai ricevuto? L'affetto, l'affetto delle persone, la riconoscenza, il fatto che la mia città di origine, Foggia, abbia deciso proprio quest'anno di fare il suo Puglia Pride nella mia città. Il regalo che non hai ricevuto, che avresti magari voluto ricevere? Ok, ho ricevuto fiori, fiori su fiori. Un diamante ho ricevuto, vi rendete con un diamante? La torta, vestiti, borse, ma un marito, confezionato, pronto per l'uso, non me l'hanno portato, me lo devo trovare da sola, e vabbè me lo troverò. Eh sì, perché Vladi non ha ancora trovato l'uomo della sua vita. Per il momento no, però io ho sempre detto che a 50 anni...